Gianrico, diciamo prima della Banca Popolare di Bari che stamattina occupava le prime pagine ma martedì scorso la tua Puglia è finita sulla prima pagina dell'edizione internazionale del New York Times con un titolo, in Italia il crimine della pasta cioè a Bari Vecchia si starebbe combattendo la guerra delle orecchiette un giornale, pensa, ha scritto ci vorrebbe Gianrico Carofiglio per raccontarla noi questa sera abbiamo la fortuna di avere Gianrico Carofiglio che ce la racconta ce la racconti c'è questa faccenda delle orecchiette che è interessante allora facciamo una premessa molto seria Bari Vecchia era un posto pericoloso fino a non tanti anni fa era un posto in cui se un turista aveva la fantasia di andare a fare un giro c'erano le signore ai confini della città che gli dicevano o le dicevano di non entrare perché era pericoloso ed era vero, si veniva scippati, era la capitale purtroppo italiana dello scippo e di molte altre cose spiacevoli oggi la città per molte ragioni, molte ragioni virtuose azioni della magistratura e della polizia ma anche dell'amministrazione comunale e di molti altri soggetti è un posto completamente diverso e lì dove c'erano gli scippi o cose peggiori, guerre a colpi di Kalashnikov c'è questa fila di signore che fanno le orecchiette per strada e i turisti vanno intanto a vedere questo spettacolo questo gesto atletico pazzesco gesto atletico col dito ah con il pollice? sì ma è una scena che è ipnotica perché loro tagliano velocissime il pezzo e poi col dito fanno le orecchiette è un serpentone che loro poi sminuzzano con è un gesto che richiede anni di studio accanito più o meno come Kill Bill per imparare a farlo correttamente ora è venuta fuori sta faccenda che non non sono in regola possiamo dire così sì non sono in regola dal punto di vista della normativa ed è giusto essere in regola dal punto di vista della normativa però l'orecchietta sì ma però c'è modo di farlo e qui io credo che esista un modo di comporre le due cose io sono sicuro che l'amministrazione comunale per cui questa roba è un vero patrimonio perché lo spettacolo di queste donne fa parte del panorama cittadino oltre a essere un'attività però diciamo non hanno i guanti di plastica insomma io credo che io penso che il comune potrà dare assistenza a queste donne aiutandole magari a mettersi in una cooperativa e aiutandole a rispettare magari in forma semplificata le regole della legge senza diciamo far sì che certe norme producano l'effetto grottesco di sradicare un'attività che è un'attività economica ma è soprattutto davvero un pezzo della tradizione del modo di essere oggi di una città che è diventata dopodiché non c'è dubbio che c'è poi il tema della tracciabilità dell'evasione fiscale questa settimana Mattarella ha fatto un discorso molto appassionale ha detto che è una cosa indecente non pagare le tasse e poi usufruire dei servizi pagati dalle tasse degli altri io ti vorrei chiedere secondo te perché la gente che paga le tasse si indigna di più per le ruberie dei politici che per quelle degli evasori cioè non c'è un biasimo sociale vero hai ragione c'è un problema molto serio nel definire l'azione dell'evasore fiscale come un vero e proprio furto chi evade le tasse ruba i soldi alla collettività non è che trattiene astutamente per questo deve essere alla fine dei conti apprezzato qualcosa che è suo quei soldi non sono suoi chi non paga le tasse non paga la quota di iscrizione al club italia è come se fosse un socio moroso che usa i servizi di un club quando gli altri lavorano e pagano perché quei servizi funzionino per questo è ripugnante a proposito di paste criminali nel tuo ultimo romanzo La misura del tempo che è un altro successo straordinario in testa della classifica da più di un mese è il libro di Natale c'è la ricetta degli spaghetti all'assassina che è uno dei tuoi piatti sono all'assassina perché li mangio a massimo si dovremmo capire è una pasta molto piccante è una pasta che richiede un certo impegno sia per la preparazione che poi per mangiarli ma in realtà ha una storia interessante perché gli spaghetti all'assassina considerati dal punto di vista antropologico sono l'esito di cucina di gran tono di quello che in passato era il recuperare gli avanzi del giorno prima perché la base degli spaghetti all'assassina è la pasta riscaldata avanzata diciamo così dal pranzo che poi li butti in padella sostanzialmente solo che c'è una vuoi che dica la ricetta? ma poi non compri nel libro è rinforzato sarà una pasta rinforzata adesso vi dico se mi promettete di comprare il libro ugualmente va bene va bene diciamo sì sì lo compriamo allora il meccanismo è questo bisogna intanto preavere una grande padella la padella deve essere grande per le ragioni che chiariremo fra poco in padella si mette una salsa di pomodoro molto liquida e molto piccante nel frattempo si fa bollire la pasta e si buttano gli spaghetti nell'acqua ma si fa bollire l'acqua scusate e si buttano gli spaghetti e si tirano via dopo tre minuti cioè quando sono ancora durissimi e con quella consistenza si buttano in padella e poi si lascia che cuociano nella salsa fino a quando la salsa non si consuma e gli spaghetti si bruciacchiano tutti quanti sulle pareti della padella che per questo deve essere grande l'efficoltà è quanto diventano bruci e devi trovare un punto di equilibrio fra una parte che rimane semplicemente cotta e molta altra parte che è bruciacchiata croccante e piccante lo sentite il campione di karate che ha il controllo di tutto questo è quello che accade nella padella un filo d'olio è veramente una cosa sopraffina no dico meno male che abbiamo mangiato qualcosa prima di entrare sì se no ci metteva voglia devo dire che ovviamente non raccontiamo la trama del libro è un romanzo non si racconta ma le ricette si se la prepara e a me piace in qualche romanzo fare qualche riferimento gastronomico detesto l'eccesso di riferimenti gastronomici ma dire che un personaggio si prepara a qualche cosa e spiegare è un modo per raccontare il personaggio quindi ha una funzione narrativa per me e così dire io non so se e così dire io non so se